Ciao a tutti ragazzi, qui è Forte Comerche Parla e benvenuti in un nuovo video Non sto più nella pelle ragazzi, non perdiamo tempo, è uscito finalmente Fortnite capitolo 3 Prima di iniziare vi ricordo semplicemente di lasciare un like, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno Ho shoppato già qualcosina del pass battaglia, le skin sono piuttosto carine Anche se le migliori ragazzi senza perderci in chiacchiere sono ovviamente quelle di Spider-Man Veramente molto figa ragazzi, e poi c'è anche la versione col simbionte di colore scuro E' veramente veramente tantissima roba Ovviamente ragazzi vi ricordo di shoppare il pass battaglia solo e solamente con il mio codice creatore Fortu Così come vedete a schermo E se shoppate il pass battaglia con il mio codice creatore attivo e pubblicate una storia su Instagram Mentre mi fate vedere che lo fate Io vi riposto sul mio profilo Instagram ufficiale FortuTheGamer Ma si sta caricando ragazzi, no no, io aspetterei, io aspetterei Fra, oh begin the next chapter bro Ma cosa sta succedendo fratelli, fratelli ma siete pazzi Ma siete pazzi, sgravati What's going on? Ok, suppongo che io ti debba una spiegazione dice Abbiamo subito tante cose in questi anni e c'è molto che tu non ricordi neanche Wow ragazzi Battle pass Shoppo subito Ma proprio così, va, vai, vai, comprami tutto Ok, ora che mi raccomando codice creatore Fortu per shopparlo eh Che figata, ok Battle pass sbloccato Ok Quante volte me l'ha sbloccato? C'è un po' baggadello? Vediamo Dopo tre anni io vi flexo i balletti che voi non c'avete Vediamo ragazzi Allora Vedo una mappa per lo più innevata E non lo so dove buttarmi Ci buttiamo qua? Eh sì andiamo là, dai Andiamo tutti quanti là Spero solo di non incontrare i tre yardoni Con tutto me stesso Spero di no Ah ragazzi Siamo seriamente giocando a Fortnite capitolo 3 No jokes dude No jokes No, oddio Nuovissima non è o sbaglio? Forse sono io che mi sto sbagliando Prendiamo subito un'arma Allora Oh Cosa? Cosa, 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 cosa No ma in prima persona Ma non si capisce niente Prima kill Che cosa soddisfacente fare questa kill ragazzi È bellissimo Oh l'uccello, l'uccello epico Ok, 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 ok Let's go No, 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 no Un tizio addosso Qualcuno mi sta pushando, qualcuno mi sta pushando Greasy Grove Ah Ok meglio che sto con il mio team Meglio stare con il mio team Cerchiamo di fare un game come si deve Oh No, 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 stanno morrendo i miei compari Oh Ragazzi non scherzate Ok Rianimiamo il nostro compari qua Il fatto che ti mira in prima persona col fucile Ma è geniale Tieni compa, via di sta roba che te ne serve No, hanno rimesso No, vabbè Hanno rimesso questi veicoli I quad, non ci credo Ok, let's go Ok, let's go Let's go Ok Abbiamo scoperto questa nuova zona Oh Ok Questo è forte raga, questo è forte Eh ci vuole assai qua Eh no, ma su Ma si reanima solo una alla volta o tutti Ah, ok, a posto Ah, e parti dall'alto Ok Andiamo dove stava il loot E prendiamoci subito della roba ragazzi Mi rubo tutto così a caso Ok, raga Devo giocare come se fossi da solo, eh Non posso fare affidamento ai miei compagni Perché io credo che di decente ci sia solo loot Poi Ashi Diciamo non lo vedevo molto agguerrito Se posso dire la mia Tanto qui ci sbu- Oddio Ho fatto la scivolata Braaa Non ci avevo proprio pensato Cavolo Oh, però si poteva evitare Sto fight Per esempio Sto fight era proprio evitabile Godo L'ho ucciso io Grande Ok Hanno cambiato un po' però Il sistema di Oh Fra Like È fighissimo Perché il colpo ti destabilizza Il colpo di cieco Ti fa muovere Tipo Ti dà un rinculo così forte Che ti fa vibrare la visuale È molto figa come cosa Non so se ci Riuscite a fare caso da lì Per ora raga Non voglio farmi sgamare Voglio prima capire dove stiano Tutti gli altri team Teniamo quelli là sotto Però ci devono essere Almeno altri due team Perché siamo tre noi E poi il resto cinque E con Cioè Sapete bene Con team da cinque solo Non ci può stare No Sono buttati Una terra dei nostri E questo è un problema Questo è un grosso problema Io sto finendo tutti i proiettili Raga No Cavolo Trenta Dai dai Rimane l'ultimo qua Rimane l'ultimo qua Rimane l'ultimo qua Dai esci Vincila Fallo per noi No Secondi Non ci posso Credere Mannaggia Vabbè Vabbè Non fa nulla Non fa nulla Raga Prossimo game Prossimo game Che palle Devo giocare da solo Di nuovo Ah C'è un codice Ah Dobbiamo stare in quattro Per aprirlo qui Cioè Ariel Ma pisse Se ne sta andando Con la barca Ariel Siamo una squad Vorrei fartelo notare Poi fatti tu Ariel Figurati Però Non so se ti conviene Andartene Ah Slurpine E poi ci sono questi Gasol Juice E Facciamo Così dai Giusto per averle In modo da curare Pure il mio compare Se necessario Vai vai bro Piammi pure altre chest Pure altre chest Dai Manca l'ultima Manca l'ultima La sento La sento Sta qua Ok apriamo Senza sfondare la chest Passiamo Ok sfida fatta C'è gente Ah no È lo squalo Il mio compare Sta affaitando Mi sa proprio di sì Che strano Che sia senza vita C'è senza scudo Ma è un bot Sì sì Sono un bot Secondo me Sono un bot Sì sì Sulla va a menare A piedi Infatti Ok Due assist Meritatissimi Perché erano Kill le mie Però va bene Lo sapete che forse Ci ha gioinato Cioè una duo Potrebbe averci gioinato Una duo Pensandoci Perché effettivamente Questi erano in due Non so se ti conviene Metterti a menare lo squalo Eh poi sono fatti due Eh vedi tu Però secondo me Non ti conviene tanto Però fra Ti rendi conto Che se ci acchiappiamo Un nemico Ti faccio un casino Loot lake Uh cosa Carina però come zona Si chiama loot lake questa Fammi scendere subito Fammi scendere subito Non mi fa scendere Oh Fra non ti avvicinare Questi temina No Eh infatti Ah ok Pessima mossa Da parte mia Ma va bene Mi credete Non vorrei Rianimare il compare Cioè io credo Di utilizzarlo Solo come diversivo Credo che da diversivo Sia top Tenda Ah c'era la tenda Vero Che fa la tenda Rest E che faccio Un edge storage Ah oddio Che La tenda Non ho capito Cosa faccia la tenda Ragazzi Fatemi recuperare Schettati qui Fatemi andare a curare Cavolo Dio fa in fretta Oh no ragazzi Vuole più tempo Dai C'è palesemente Più tempo necessario Per fare un reboot Non è possibile Che prima durasse Così tanto Sono sparando Sì Sono bot però Ok Era da solo Posto Fightano a distanza Eh sì Dovrebbero essere Tipo là sopra Non so se lo voglio sparare Che non so quanto Si è messo bene A livello di armi Sia Uno o un compagno Io sto giocando Praticamente da solo Vabbè Utilizziamo il mio compare Come diversivo No Ho fatto l'aghi Sono bot Ma ho fatto l'aghi L'ho fatto la prima vittoria reale Così schifosa Vabbè Vabbè Prima vittoria reale Su Fortnite Capitolo 3 Che dire ragazzi Sono veramente Hypatissimo Per questo nuovo capitolo Di Fortnite Mi raccomando Io non vedo l'ora Di fare nuovi video Nuove sfide Lasciate like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi boys Ci becchiamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie.